Lascia, apre dei dubbi abbastanza intensi, me lo mandate per cortesia sull'Edual grande, eccolo qua, no, stringetemelo per cortesia, quello precedente, eccolo, questo arriva dalla Guardia di Finanza, vedete, nucleo speciale Polizia Valutaria diretta dal generale Giordano. Che cosa fa? Questo è un prospetto di una serie di società che mandano in Italia, sono le famose società che hanno avuto le mascherine e rimandano in Italia dei benefici, adesso mandatemi, ingrandiamo quei due più grandi, SunSky è la società dietro la quale c'è Tommasi, c'è Benotti, c'è Guidi, c'è tutto questo giro, cosa riceve? Il 17 aprile, quindi 17 aprile, 17 aprile, iniziano ad arrivare, poi arriveranno fino alla fine di settembre, 33 milioni di euro, ma siamo ad aprile, arriva già qualche milione di euro sul conto corrente. Non solo, sulla società di Benotti, la Micro Products, arrivano 8 milioni, quasi 9, il 20 aprile. Questo che cosa vuol dire? Che quando Benotti dice che Arcuri gli avrebbe detto questa cosa e l'ufficio stampa di Arcuri dice impossibile, tutto avviene a luglio, tutto avviene a settembre, la finanza deposita tutto a settembre. Ebbè, non è così. Perché non è così? Perché il 17 aprile e il 20 aprile arrivano milioni di euro su questi conto correnti. Sandra, poi per carità, è un dato, noi non possiamo assolutamente dire nulla su quello che si sono detti Arcuri e Benotti, ma questo dato perché... Grazie a tutti.